Un periodico di cultura e informazione nato come esperimento nel 1986 e diventato poi appuntamento fisso e dal valore sociale e culturale riconosciuto. È stata presentata a Termoli nell'Aula Adriatico dell'Università la diciassettesima edizione di Meteora, la storica rivista della FIDAPA, l'associazione nazionale con 11.000 iscritte e 7 distretti, che riunisce donne impegnate e si concentra nella valorizzazione del talento femminile, nelle professioni, negli affari, nella cultura, nell'arte. Un evento a risonanza non solo cittadina ma anche a livello distrettuale. Il progetto Meteora è un progetto che nasce con la sezione, con la fondazione della sezione, grazie a un'idea brillante di Vilma Costantini, vulcanica, prima presidente di sezione, socia fondatrice. E' un progetto che la sezione con orgoglio sta portando avanti. 180 pagine, una copertina accattivante dietro la quale si apre il mondo FIDAPA degli ultimi due anni, a partire dagli eventi locali curati dalla sezione di Termoli per passare a quelli nazionali e distrettuali. C'è poi una sezione dedicata al gemellaggio Termoli-Melfi, una alla carta dei diritti della bambina, le altre poi si concentrano su cultura e società e sullo sviluppo sostenibile, con la raccolta di numerosi articoli accompagnati da foto e immagini in bianco e nero. Un sapiente lavoro coordinato da Fernanda Pugliese nelle vesti di socia e direttore della rivista. Tante dunque le tematiche come spiegato dalla presidente della sezione di Termoli, Angela Rusciano. Tratti distintivi sono senz'altro l'attenzione al territorio, alla sostenibilità, a delle politiche che vadano a includere la popolazione nel rispetto delle loro tradizioni, ma soprattutto nel rispetto dell'ambiente. A tal proposito abbiamo fatto un convegno distrettuale su queste tematiche.